Buongiorno, buongiorno al vostro Ombles, sono sempre a stazione di Prato centrale dei treni. Oggi mi sono capitate delle cose, allora mi è venuto a mente di fare un discorso. Il video però sarà breve perché c'è poco spazio, diciamo, di poco spazio di giga, non so perché li sto consumando. Insomma, non credere in nulla, ma guarda, io feci questo video già da un'altra volta, credo che qualunque persona dovrebbe credere in quello che vuole, l'escorso l'avete sempre sentito dire, penso, l'altra parte, però è chiaro che credo è una cosa, ma qualcosa si deve afferrare, perché se no, poi, vabbè, se a qualcuno piace credere, non si avvera mai nulla, vabbè, ma però io credo che quando uno crede qualcosa si debba avverare. Tutto qua, perché c'era qualcuno che mi diceva, non è vero, basta credere, anche se non si avvera nulla, basta credere, no, qualcosa si deve avverare, se no, per quanto possiate pensare di essere liberi, che è un credo, ma non è un credo, che cos'è, non è nulla, non è un credo, uno crede e poi qualcosa si avvera, perché se no non è più un credo, è un pesce, è un pesciolino, un pesciolino, un pesciolino, un pesciolino, un pesciolino, scorso breve, ho pochi gigi, ho poco spazio nel cellulare, vabbè, ditemi voi cosa ne pensate, ogni credo c'è una fine, credo, fa anche un po' di due, che quando non si avvera nulla, quando non si avvera nulla, a un certo punto forse è meglio smettere di credere, comunque poi, insomma, io credo che è meglio fare così. Buona giornata!